Un fiore in onore della Beata Vergine di Capocolonna, un'iniziativa nuova in quello che è il contesto delle festività in onore della Madonna di Capocolonna? Sì, è un'iniziativa nuova, però ci tengo a precisare che è stata dettata da una necessità. Come si può vedere quest'anno buona parte dell'area presbiterale è stata chiusa perché devono iniziare dei lavori importanti di ristrutturazione della cattedrale a metà giugno. E quindi lo spazio è molto ristretto, mentre negli altri anni quando la gente in onore della Madonna ha portato tanti fiori c'era lo spazio nell'area presbiterale di poterli collocare. Quest'anno, non avendo più questo spazio, siamo costretti a non poter mettere tutti i fiori che le persone con tanta devozione e tanto amore portano alla Madonna. Per cui allora abbiamo pensato una via alternativa. Abbiamo pensato come comunità parrocchiale di lanciare questa iniziativa, un fiore per la Beata Vergine Maria di Capocolonna. Ci rivolgiamo appunto a tutti coloro che intendono portare in questo mese di maggio un fiore alla Madonna. Se volessero, anziché portare il vero e proprio fiore che però poi non sappiamo se possiamo collocare per quanto tempo davanti al quadro, Allora abbiamo pensato di realizzare con il ricavato un centro di ascolto per persone indigenti, per persone con varie problematiche. Mi hanno dato la disponibilità diversi professionisti della parrocchia, medici, psicologi, avvocati, persone che hanno esperienza di vita matrimoniale per aiutare tutte quelle persone che hanno bisogno di qualche prestazione medica o anche una consulenza giuridica, le coppie in crisi che potrebbero essere aiutate e accompagnate da persone di esperienza nella vita matrimoniale. Siccome abbiamo dei locali siti in via Ruicella, quindi vicino alla Chiesa dell'Immacolata, in pieno centro cittadino, allora ecco abbiamo pensato che con il ricavato di questa iniziativa allestiremo questo centro sotto lo sguardo di Maria e con la sua benedizione.